Imparare a suonare la fisarmonica a 90 anni è la storia di Loredana che non si è fermata neanche nel periodo del lockdown. Ama definirla una piccola orchestra portatile la sua fisarmonica. Loredana Condini classe 1930 di Trento che da tre anni ha iniziato a frequentare le lezioni della scuola di musica il diapason. Sì proprio così perché pur avendo amato la musica per tutta la vita Loredana il passo di iscriversi ad una scuola ha deciso di farlo alla soglia dei 90 anni senza il timore di essere troppo in là con l'età. La prima cosa che ho chiesto è stata quella ho detto avete limiti di età e loro mi hanno detto di no erano un po' stupiti comunque mi hanno accettata e ho conosciuto il maestro Caberlotto sono andata da lui a parlare anche lui con la massima tranquillità ho detto va bene cominciamo. E dopo aver cominciato le lezioni con il maestro Roberto Caberlotto non si sono più fermate una passione quella per la musica più forte anche del lockdown. Loredana infatti si è armata di buona volontà e come un qualsiasi studente in questi mesi si è messa alla prova con la didattica a distanza. Tra i tuoi sogni era quello di studiare questa toccata e fuga di Bach insomma adesso ci stiamo un po' pian pianino riuscendo. Era sempre stato il mio sogno è questa faccio due battute ecco per far sentire che cos'è.